è bella in tutte le sue versioni ma nella sua versione crossover ancora di più stiamo parlando di Fiat 500X 2000 di cilindrata a 140 cavalli con il motore multijet diesel versione 4x4 come possiamo intuire anche dal simbolo sulla vettura e dall'assetto decisamente rialzato ha questi fantastici cerchi lega multirazza e le barre al tetto con i vetri oscurati fa parte delle nostre auto usate aziendali con singolo utilizzatore ha passato tutti i controlli di sicurezza dei nostri automotive expert e ha 39.774 km interni in tessuto misto pelle tenuti molto bene sono morbidissimi hanno gli attacchi isofix per i seggiolini e sui sedili sono presenti delle comode tasche porta oggetti versione 4x4 come abbiamo già detto è comunque super accessoriata troviamo innanzitutto il volante con i comandi integrati comandi di gestione dell'infotainment comandi vocali e cruise control al centro troviamo lo schermo touch con il navigatore TomTom la radio i media chiaramente possiamo connettere il nostro dispositivo per effettuare le chiamate tra le varie applicazioni di Uconnect abbiamo l'orologio la bussola e le informazioni sul viaggio il tasto per attivare o disattivare lo stop and start più sotto troviamo poi il clima automatico bi-zona una presa USB e un ingresso AUX il cambio è automatico abbiamo poi il grip control modalità sport, traction e auto vari spazi porta bicchieri e porta oggetti al centro sul tunnel della vettura un bagagliaio spazioso e profondo con il ruotino di scorta per le emergenze tutto compreso nell'offerta che potete scoprire subito su rattiauto.com andate a vedere tutte le nostre Fiat 500X tra cui questa Fiat 500X 4x4 non fatevi scappare questa occasione riservatela immediatamente vi bastano 100 euro tutte le nostre auto viene effettuato un processo di igienizzazione e sanificazione prima della consegna a voi rattilover detto ciò ricordatevi rattiauto.com per scoprire tutte le nostre auto tutti i nostri servizi però date un appuntamento per venirci a trovare o per fare un test drive noi ci vediamo alla prossima ciao rattilover ciao 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 Grazie a tutti.